Si avvicina sempre più il momento di partorire per Elisabetta Canalis che ha fatto la tradizionale festa a preparto con dolcetti e regali per la nascitura. La showgirl ha postato su Instagram le foto del baby shower festeggiato con le sue più care amiche, con tanto di coccole al pancione e di torta dedicata alla piccola che deve nascere. Non si sono fatti attendere i ringraziamenti social della raggiante Elisabetta che ha postato My Baby Shower, grazie ragazze per questa bellissima festa in attesa della piccolina in arrivo.